Uomini e donne news, Alex e Alessandro nella bufera. Alex Migliorini e Alessandro d'amico di Uomini e Donne accusati per aver pubblicato una simpatica foto. Alex Migliorini e Alessandro d'amico di Uomini e Donne accusati per aver pubblicato una simpatica foto l'extronista del trono gay di Uomini e Donne, Alex Migliorini, e il suo compagno Alessandro d'amico hanno passato la vigilia di Natale insieme. Il cenone, che precede il grande pranzo è un po' devastante per tutti e lo è stato anche per la coppia, i due, per ironizzare sulle gravidanze venute fuori proprio in questi ultimi giorni e per sottolineare quanto sia stato devastante il cenone, hanno pubblicato post su Instagram. L'ex corteggiatore ha pubblicato sul social una foto in cui lui stesso è con la maglia alzata e la pancia in fuori con sopra una scritta, che fa intuire una gravidanza, in ginocchio, con il cappellino di Babbo Natale in testa, c'è l'extronista, che bacia la pancia. Sembra tutto perfetto, un tipico ritratto di una semplice coppia in voce attesa, il problema è che nessuno dei due, per natura, può, concepire figli, questa foto, che in sé per sé contiene ironia, è stata attravisata da qualcuno e i due fidanzati sono stati acclusati pesantemente. Come ben vedete, vogliere è potere, un gran cenone prima parte, ha scritto Alessandro D'Amico sotto la foto con Alex Migliorini, i ragazzi non pensavano di far succedere quello che poi effettivamente è successo. Ci sono moltissimi commenti di chi, purtroppo, non ha colto l'ironia ed è andato pesantemente sul personale, a questo punto Alex ha pubblicato un Instagram story scrivendo, rimango veramente basito da certi commenti che scrivete su una foto, che abbiamo fatto in modo simpatico, vorrei tranquillizzare le persone, che Alessandro non è incinto. Quanti di voi, dopo un pranzo, si sono guardati la pancia e si sono detti, sembro incinta Barraù, finitela di fare di tutto una tragedia e cominciate a vivere, il veronese, vista la ricorrenza, ha poi concluso, ah sì, buon Natale anche a voi. Alessandro D'Amico di Uomini e Donne risponde alle accuse Alessandro D'Amico, come il compagno Alex Migliorini, ha pubblicato un Instagram story per rispondere alle insistenti accuse. Io comunque ho capito una cosa ultimamente, è inutile farsi sangue amaro in certi certi casi perché, purtroppo, viviamo circondati dall'ignoranza, la cosa più brutta è vedere quanto la gente è consapevole di essere ignorante e non fa niente per cambiare. Il napoletano, riferendosi ad Alex, aggiunge poi, devo alimentare l'amore, che provo per lui perché è lui ci, che conta, è il suo parere che vale, è il suo rispetto che cerco, è il suo rispetto che cerco. Grazie a tutti.